Quali sono secondo voi gli errori più limitanti dell'uomo? Guida Gli errori più limitanti dell'uomo sono Credersi un universo a sé stante Credersi l'unica intelligenza in essere Credere possibile l'equiparare concetti e valori umani a concetti e valori spirituali Credere in un giustiziere divino che assolve e condanna per l'eternità Credere nella resurrezione carnale dell'ultimo giorno Credere nella morte fisica come annullamento totale e definitivo Solo colui che riuscirà a bonificare la sua mente da questo ciarpame prenderà coscienza di essere ad un passo dalla verità Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti